Là, dove il silenzio è l'anima di tutto, dove il cielo entra nel cuore e diventa universo, dove una lacrima sublima l'anima, dove il vento si ferma e il tempo non esiste più, dove l'istante è eternità. Incanto d'inverno, magia d'estate, in una valle unica nell'arco alpino, la Val Masino, immersa nella natura, fra boschi secolari e suggestive montagne, una dimora d'epoca, antica struttura termale, il luogo ideale dove trascorrere vacanze di puro relax all'insegna del benessere. Benvenuti al Relais Bagni Masino. La struttura è stata attentamente ristrutturata, conserva ancora l'atmosfera, le architetture, gli aspetti storici che nel corso del tempo l'hanno caratterizzata. Rilassatevi. I trattamenti termali e i percorsi sono sapientemente miscelati per ritrovare il benessere psicofisico e restituire piacere e bellezza. Concedetevi un massaggio Qui, dalle profondità della terra, una preziosa sorgente di acqua calda, ricca di sali minerali, sgorga dalla roccia e alimenta la piscina idrotermale. La cucina, grazie alla semplice ma sapiente armonia di sapori, è leggera ma gustosa, per abbinare al soggiorno salute e benessere anche in tavola. Buongiorno. Dopo un buon riposo, conciliato dal caldo silenzio che avvolge il Relais Bagni Masino, una buona colazione è il modo migliore di cominciare la giornata. L'acqua termale, per alcalinità e composizione chimica, è ricca di effetti benefici sull'organismo. Il relax, l'atmosfera, la magia, giovano alla mente e al cuore. Sauna bio o finlandese. Purificate la pelle e il corpo. Provate un'intensa sensazione di rigenerazione. Gustatela nell'area relax insieme alle nostre tisane. Gli ambienti caldi ed accoglienti sono dotati di tutti i comfort. La cura nei dettagli, l'attenzione nei particolari, l'amore per le tradizioni, personalizzano la qualità e il servizio. Una magnifica cornice naturale e l'aria balsamica accompagnano il pranzo all'aria aperta. La taverna del Gijat, inserita nel contesto del relais, vi propone i piatti della tradizione valtellinese. Meravigliatevi! Tra i boschi incantati e scorci da fiaba, sia che facciate una passeggiata rilassante che un percorso escursionistico, rimarrete a bocca aperta. Se siete più sportivi, sono numerose le possibilità per voi. Ciaspolate, sci alpinismo, arrampicata sulle cascate di ghiaccio e molto altro. Assaporate il tempo, dimenticate la fretta, gli affanni di tutti i giorni. Riscoprite il piacere del momento, il gusto dell'attimo. Se siete amanti dell'attività all'aria aperta, del contatto con la natura e dell'avventura, la Val Masino è il luogo ideale dove praticare escursionismo, alpinismo, arrampicata, mountain bike e altro ancora. Gustate l'acqua! Ricca di sali minerali, sgorga una temperatura di 38 gradi centigradi. La sua composizione chimica la rende speciale per la cura e il benessere del corpo. Bevete questa preziosa acqua direttamente alla sorgente. Relais Bagni Masino Benvenuti nel benessere Grazie a tutti! Grazie.